Buongiorno a tutti sono Luigi Anaraku se preferite e benvenuti a questo nuovo episodio di Dragon Z Dokkan Battle. Ragazzi abbiamo avuto quattro SSR di Yamcha, un SSR di Riff, due SSR di Krillin, innumerevoli SSR di qualsiasi PG del gioco, tranne Onno Gohan che stiamo aspettando ancora, sperando che un giorno si decidono di far uscire l'SSR che era la principale dei Superstrike mostrata al Day One. Ma finalmente tutti quelli che lo amavano, tutti quelli che lo volevano avranno un SSR di Tenzing, di Tien Cha. No, di Tien Cha è un orrore che doveva esistere. Allora, 25 stamina di Tien, 25 stamina di Tien, evento che non penso sia minimamente complesso, ma i miei amici mi hanno detto che è alquanto imbarazzante come battaglia, dato che con questi eventi me ne frego del no spoiler. e andiamo a farlo alla Run One con un team Gotenks Amico, in pratica come ucciderlo facilmente a occhi chiusi. Gotenks Leader, Gotenks Amico, abbiamo 86.000 HP, non durerà molto. Interessante il fatto che bene o male si dovrebbe poter farmare abbastanza veloce, calcolando che c'è sia la possibilità di ottenere una copia, che due copie quando insieme a Rift. Quindi non dovrebbe neanche essere troppo difficile farmarlo. Difficilmente lo farmerò subito, in quanto devo dare la priorità a continuare il farming di piccolo. Anche se non ho assolutamente più medaglie tech ormai, medaglie tech sono diventato un'illusione. Oggi alle 16, questo video penso uscirà prima naturalmente, sapremo molto probabilmente il nuovo login bonus di Natale. Andiamo a vedere un attimino come va, nella fase 1 è contro TNAGL, niente di eccezionale naturalmente. Lo so ragazzi, devo decidermi ad acquittalizzare C13, ancora SA2 tipo SR. Mi ho trovato la voglia solo di acquittalizzarlo, tra virgolette solo. Mi sarei dovuto dare una mosso un po' di tempo fa. Ma vabbè. Direi che abbiamo chiuso round 1. Gotenks amico e sia 10, sì, sono un po' raffreddato se ve lo chiedete. Gotenks amico e sia 10, penso che sciotti la fase 1 abbastanza facilmente. Ecco qua. Fase 1 completata, ora Tien si incavola. Tien si incavola, che paura. Devo anche farmarmi di Yamcha, giusto per averli ability chart completa. Almeno questo è la GL. Sono 40, ho tanta di stamina da usare, però meglio di nulla. In questi giorni, per ora si sa solo che abbiamo il torneo il 22. Sì, alla fine parlo il giusto di una battaglia come questa. Il torneo inizia il 22, finisce il 25. Potrebbe esserci una nuova meccanica riguardante Goku Kamefit. Oppure semplicemente sarà un PG gratuito che entrerà nel torneo. Non nella top, ma con i punti. Ancora non si sa. Avremo il ritorno del torneo tra il sesto e il settimo universo. Quindi farmatevi Kaba. Non sarà buggato a sto giro l'evento, quindi dovrete farmarvi tutte le medaglie. A differenza del primo giro in cui c'è stato quel bellissimo bug in cui le hanno regalate. Direi che quasi quasi si chiude di nuovo. Priscilla deve andare al bagno. Bravo Priscilla. Sei tutti noi. Andiamo. Non sento pericolo da questa battaglia. Davvero, il pericolo non lo sento minimamente. In qualsiasi battaglia in cui si può usare Gotenks. E se contro una GL. Non sento difficoltà. Il Gotenks è barato. Ora con l'ability chart è doppiamente barato. Se prima era minimamente barato, ora è una cosa che non ha quasi senso di esistere. 8, 16, 24. Per sicurezza ho un senso l'uso. Perché abbiamo ancora subito l'onda do donna. Quindi, non vorrei che sia leggermente più grosso del previsto la sua specie. Tipo da 20.000 d'anni e lo prendiamo. Tanto è chiuso al prossimo. E infatti ci prendiamo l'onda do donna. Ora 24. Dove... Forse sarebbero stati sopra comunque. Ma meglio non rischiare. Gotenks va. Non è ancora abbastanza forte per essere portato a... UR purtroppo. Però vabbè. Mi tocca il giusto. Chiudiamo. Come vedete, Superstrike che non ha senso di esistere. Ma qualsiasi Superstrike ormai è diventato di una facilità allarmante. Basta farsi un team di costo basso con un amico, il god leader e gli sfondate male come in questo caso. Prendiamoci una medaglia. Ne dovrò farmare varie pian pianino. Senza fretta. Mi probabilmente allenerò i PG tramite questo evento più che altro. Tanto che non sento davvero il pericolo del nostro carissimo Tien. Tien. Tien che andiamo anche immediatamente ad analizzare. Allora, 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 allora. Tien, Tien, Tien. Eccoti qua. Tien. Superstrike AGL con 7569 HP. 7049 d'attacco. 3778 di difesa. Un costo di 19, un keymeter, 300, 12, 130%. Non male, rendono questo PG tutto sommato sulla carta. Un PG discreto. 10 eccezionale, non siamo ai livelli di Vegeta, però carino. La leader skill HP attacco più 50% agli AGL. Se riuscite a farmarvelo, non dovrebbe servirvi a nulla. Salvo che non abbiate unicamente dei PG decenti tech, allora potreste pensare di usarlo in un team AGL con un amico Veget. Potrebbe dire comunque la sua. La passiva. Media chance di stannare. Semplice. Passiva abbrancherà sul tempo che trova. Molto casuale. La maggior parte delle volte sarà un PG che non ha passiva, quindi... Ma... Non è proprio quello che si sperava ad avere. I Link. Zeta Warrior. Donor Ray. Rival Duo. Soul vs Soul. Golden Zeta Warrior. Super Empower. Super Strike. Soul vs Soul. Carino per provare il 50 stabile AGL. La fase 2 però rimane un pugno nello stomaco di proporzioni in mani. La special non ha nulla di particolare. Non si sa... Non si sa ancora... Ne sto controllando anche per vedere se negli ultimi minuti c'è stato qualche... Dicevo, se c'è qualche novità, ma... Non si sa ancora se aumenta l'attacco o riduci chi per la special... Ma comunque... Cambia relativamente. Parte da S1, 220%, 20k. Fino a... Odesso, S15, 430%, 39k. Che posso dire? Allora, 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 allora... Non mi piace molto. Lo farmerò comunque perché il team AGL manca di un sesto membro, da come ora. Il mio manca anche di un quinto membro perché lo bisogna trovare nei ticket torneo ed è il virus AGL torneo che è entrato nei free to play. E secondo me ci sta da dio in un team free to play AGL. Però potrebbe starci come sesto membro del team. Stanna... Per il team free to play sto parlando, eh. Stanna non fa schifissimo. Detto questo, ci andrò molto con calma in questi giorni. Cioè, oggi do priorità ancora piccolo. Poi ci saranno Yorb. Dopo Yorb inizierò a pensare a farmarmi prima le 15 copie. E poi con molta calma mi faccio tutte le medaglie. Non è un PG che sento sia obbligatorio. Assolutamente. Anche perché, ragazzi, abbiamo Kid Vegeta ad uscita come Super Strike AGL nei prossimi tempi. Ormai mancano tre Super Strike. Nonno Gohan, ma Junior e Kid Vegeta AGL. Quindi, questo per me è il Super Strike fuffa degli AGL. Come lo è Trunks, degli STR. Quindi, non ne hanno di fuffa. Tecnicamente non ce l'hanno, però è il più debole dei Super Strike AGL. Non è il peggiore di tutti. Trunks non è tutto anche peggio, però... Un Wisa AGL fa quello che fa questo Tensig molto meglio. Vi cura tutti gli HP ed è più facile da ottenere. Quindi, farmatelo, ma non stateci a perdere troppo tempo. Se non avete proprio nulla da fare, volete spendere Stavia. Non c'è più l'X per 3, quindi ci può stare. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito. E noi ci vediamo domani. Penso con dei video tranquilli, salvo nuovi eventi. Probabilmente uscirà o un secondo free-to-play di Gotenks che ho registrato ieri sera divertendovi una marea. O il free-to-play di Gohan e poi vediamo, anche perché domani lavoro. Quindi, i prossimi due giorni saranno un attimino bloccati. Vi ricordo che se volete supportare il canale, il link è in descrizione. Mi scuso se ieri è uscito, verso prima serata, un video di Final Fantasy con il nuovo Dragon Ball Z Dokkan Battle. Come ho spiegato nei commenti di quel video, che riuscirà oggi, ero andato a fare la spesa. Il video era in upload, perché ci vogliono tanto per quei video, quindi mi ritengo un giorno intero in upload. E invece di caricarlo come bozza, per sbaglio di aver premuto pubblica ed è uscito. Quindi vi chiedo scusa se magari pensavate fosse un video di Dokkan. Aprite e vedete il nuovo episodio di Final Fantasy. Mia colpa, vi chiedo scusa. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.